GORO Peccato che non ti sia convinta prima. Goro sarebbe ancora vivo. Se vuoi parlare di lui, sappi che ha fatto di tutto perché potessimo avere questa conversazione. Ciò esige rispetto. Va bene. Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Prima devi aiutarmi. Forse non sono stata chiara. Dobbiamo agire in printa. Beh, anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai? Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Capisco. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di persone. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai. Non senza un... Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dalla rassa... Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham. La Cunningham? Lei è l'inventrice del Soulkiller. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere... Questo è quello che... E... Ve... Allè... Questa... È qualcosa di nuovo. Mi fa piacere che lo sai. Corriamo sul filo di un rasoio. Molto affilato. Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a... stronza di porcellana? Merda! Cazzo. Stiamo pronti. Merda. Non stai morendo. Ci sono io. Ti servo qualcosa? Ben tornato. Un mio amico si è guadagnato un posto sul menù qui. Quel toro ciulo con la crocchia. L'ho saputo. Mi dispiace. Ricordi il suo drink. La ricetta. Vodka con ghiaccio. Succo di lime e zenzero. E un pizzico di amore. Ah, giusto. E il cocktail si chiama? Un Jackie Wells. Bene. Allora il primo Jackie Wells lo offro io. Non mi dispiacerebbe un drink. Giornataccia? Come tutte le altre. Quindi cosa prendi? Non mi dispiacerebbe un drink. Hai bisogno di qualcosa a chiamano. Allora, se il prog arriverà a momenti. Ok. Sono pronto. Era ora, cazzo. Sembri diverso. Hai cambiato pettinatura. Cazzo è bello essere di nuovo qui. Non sapevo che te ne fossi andato. Che cosa bevi? Tequila Old Fashioned. Con su della birra e un po' di peperoncino. Il Silver End Special. Era da un pezzo che non l'ordinava. Ah, va bene un altro. Arriva. Grazie a tutti. Cassius Ryder. Il nome ti dice niente? Il tizio tatuato. Come fai a conoscerlo? Abbiamo dei trascorsi. Dove lo trovo? A un salone a Watson. Su Pershing Street. Billy Goat. È più nel mio stile. Lo adorerà. Non ho dubbi. Geremia Grayson. Dicono che fa l'operatore per Smasher. Ma io non ti ho detto niente. E tu? Chi sei? Diciamo che avevamo qualcosa in comune. Ruby Collins. L'ho passata io a Grayson. Tu puoi essermela fatta. Ho visto! Ho visto! Vistra o destra? Beh, diciamo che ho provato di me. Ehi! Sei Ruby? Che c'è? Hai sentito parlare di me? Andiamo fuori di qui. Ti racconto cosa ho sentito e tu mi mostrerai se ho ragione. ma prima devo occuparmi di una cosa. Io! Leva le tue cazzo di zampe da rubi! Non vado a nessuna parte con te! Sta lavorando! Capito? Cazzo, come mi è mancato? Ehi! Ti aspetto fuori! Mi stavi aspettando? Ti va di andare a casa mia? Dove vado? Martin Street. Ma fai il giro lungo. Ti stanno bene. Hai da accendere. Mi stai accendere. Salve, Night City!